Domenica 21 agosto torna il Gran Premio DMT Allè che si correrà a Casteldario in provincia di Mantova con la regia organizzativa del pedale casteldariese. Il neopresidente Fausto Mirandola ha voluto presentare l'edizione 2022 in una piacevole serata che ha visto anche la presenza dei vertici del ciclismo mantovano. 25 le squadre attese ai nastri di partenza per questo appuntamento inserito nel calendario nazionale, ormai divenuta una classica del calendario juniores che si disputerà sulla distanza dei 131 chilometri e 600 metri, suddivisi in 7 tornate iniziali di 13 chilometri e 400 metri e quindi poi la Kermess sul circuito cittadino di poco più di 4 chilometri che dovrà essere ripetuta per 9 volte e che nella storia di questa manifestazione ha sempre regalato grande spettacolo e tante emozioni. Un vero e proprio passaggio del testimone, quello tra Giuliano Solera e Fausto Mirandola che porterà avanti la tradizione di questa competizione senza rinunciare ad inserire tante novità e ad ospitare al meglio gli atleti e gli appassionati che saranno presenti a Casteldario. Giuliano Solera, un avvicendamento alla guida del pedale casteldariese che dà nuova linfa, nuovo vigore alle vostre organizzazioni, in particolare alla gara d'agosto. Sì speriamo di sì, io come ho ripetuto parecchie volte dopo 55 anni di sacrifici per Casteldario e per il ciclismo ho trovato un mio sostituto che è Mirandola Fausto. Il 21 agosto comunque anche quest'anno sarà grande festa. Sì speriamo di sì, siamo al completo, corridori abbastanza penso validi, tutte le squadre migliori che sono in Italia, devo dire qualcosa, mi manca il campione d'Italia che la federazione l'ha collocato per i campionati del mondo su pista. Nicola Minali, il gruppo di MT Allè al fianco anche quest'anno del pedale casteldariese per un evento, quello del 21 agosto che vedrà al via il migliori juniors del panorama nazionale. Sì è una tradizione ormai, è un evento di una certa importanza e la famiglia Zecchetto non vuole mai mancare a questo impegno, è stato allestito sempre nel migliore dei modi, ci saranno sicuramente partenti importanti a questa manifestazione che come ripeto anno dopo anno si è ritagliata un ruolo di prestigio all'interno del panorama delle corse in Italia. Percorso confermato rispetto alla tradizione, visti gli juniors di quest'anno cosa c'è da attendersi? Come dico sempre tutti gli anni siamo in una gara per velocisti ma poi se andiamo a scorrere l'albo d'oro sono levati in volata poche volte. Diventa impegnativo per la tortuosità dei giri finali e sicuramente per il caldo perché comunque si troverà sempre del caldo come è stato in passato e questo renderà anche il chilometraggio non è proprio dei più semplici e quindi saranno messi a dura prova tutti i partecipanti. Fausto Armanini, presidente del Comitato Provinciale della Federazione Ciclistica Italiana di Mantova, la presentazione del Gran Premio DMT a lei è stata l'occasione per consegnare anche una gradita riconoscenza a Giuliano Solera? Certo, se lo meritava perché dopo tanti anni che è stato in prima linea per organizzare questa manifestazione, non solo questa ma anche tante altre, dunque era il nostro dovere riconoscerlo per l'impegno che ha dato per tutto il movimento ciclistico mantovano. Dunque noi dobbiamo solo ringraziarlo perché gente o uomini come Solera se ne trovano pochi. lui è andato anni con capabilità, con impegno, però ha portato anche la corsa, anche quella che viene fatta il 21, che è a livello nazionale e internazionale, questo è importante e credo che noi come Comitato siamo qua solo per ringraziarlo. Un calendario importante, quello portato avanti dal Comitato Provinciale di Mantova, ci sono tante corse di qualità. Sì, quest'anno insomma il calendario siamo stati contenti perché abbiamo messo sul tavolo circa una sessantina di corse di tutte le categorie, abbiamo portato anche così quel trittico rosa delle donne, abbiamo portato qualche corsa in più sia per quanto esordienti allievi e elite under, dunque il movimento c'è, la voglia di fare e la voglia di ciclismo c'è ancora nel Mantoano, dunque per noi è un grosso risultato, speriamo che negli anni avvenire, di andare ancora, di alzare un po' più l'asticella e insomma di portare qualche corsa in più ancora perché noi puntiamo di più, puntiamo sui giovani, perché i giovani sono il futuro, sono il futuro del ciclismo.